E' partita la caccia al fortunato vincitore di 5 milioni di euro con un gratta e vinci acquistato al Bar Coppini. La mafia esiste, dobbiamo conoscerla e attrezzarci per combatterla, così Rosi Bindi ieri a Prato per un incontro di Libera. Al Santo Stefano arriva la biopsia liquida e il DNA dei tumori si vede con un prelievo di sangue. Domani il Prato affronterà il corticello, obiettivo proseguire a cullare l'ambizione di arrivare ai playoff. Buongiorno e benvenuti al telegiornale di TV Prato. E' un buongiorno soprattutto per il fortunato vincitore di 5 milioni di euro con un gratta e vinci acquistato alla tabaccheria del Bar Coppini di Via Bologna. In città è già partita la caccia al fortunato vincitore. Con un gratta e vinci da 20 euro si è portato a casa 5 milioni o meglio 4 milioni di euro, considerando la tassazione al 20%. E' stato venduto nei giorni scorsi alla tabaccheria Donati Marco, presso il Bar Coppini di Via Bologna, il biglietto della serie Il Miliardario Maxi, la cui vincita massima lorda è proprio di 5 milioni. Un'evenienza che si verifica una volta ogni 9 milioni e 360 mila biglietti venduti. Il rivenditore ha saputo della notizia direttamente dal vincitore che si è fatto avanti in maniera anonima. Io l'ho saputo tramite la fotocopia che ci è stata recapitata con un biglietto che ci hanno ringraziato e così all'inizio si pensava fosse uno scherzo, poi quando dopo abbiamo visto, abbiamo appreso dai concessionari che su Prato hanno stati 25 milioni di euro al maxi miliardario del valore di 20 e lì abbiamo capito che la tabaccheria fortunata del venduto italiano era stata la nostra. C'ha qualche idea di chi possa essere il fortunato vincitore? Non vi siete accorti niente? No, idea non ne ho perché insomma il gratte vinci diciamo è un prodotto di gioco che viene venduto ad ampio spettro, dalla signora che fa la spesa al fumatore che prende il grattino come il resto, a chiunque insomma è difficile stringere il cerchio. E stamani dopo che si è sparsa la notizia tra i clienti del Bar Coppini di Via Bologna è partita la caccia al fortunato vincitore. Ero io il vincitore o non ero qui, di sicuro, e poi io di vendere e non ti compro, non ne compro nemmeno un euro. Allora sarà lei il vincitore? Magari, il gioco è superato la notte, il gratte vinci non è di mio, il numero devo mettere io. Con una vincita simile cosa farebbe? Smettere di lavorare, la prima cosa, poi fare una girata. Ha comprato un gratte vinci? Sì, tre ne ho comprati. Ma già ha grattato? No, no, li grattano a casa, sperando se viene qualche cosa almeno sto a sedere, sto più tranquillo, se viene qui mi può venire qualche, o cinque milioni, voglio dire, mi sembra bene, no? No, sono contento, se lo vince qualcuno che ha bisogno sono contento. E adesso spazio alla cronaca, tre arresti per droga, 13 persone denunciate per vari reati, un'attività produttiva controllata a Montemurlo, all'interno della quale sono stati scoperti quattro operai irregolari ed un'imprenditrice arrestata. È il bilancio dei controlli eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Prato che in questi giorni, grazie anche alla presenza della squadra di intervento operativo del battaglione toscana, hanno intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati alla tutela della sicurezza urbana e alla repressione dello spaccio di droga. Durante le verifiche sono stati anche rintracciati due catturandi poi condotti presso le carceri di Prato e di Firenze. L'ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosi Bindi, ieri sera era a Prato nella chiesa di San Bartolomeo per parlare di impegno civile e di lotta alle mafie. La mafia esiste, dobbiamo conoscerla e attrezzarci per combatterla, ha detto Rosi Bindi. Non abbiamo più alibi di fronte alle corruzioni, alle collisioni, all'agire delle mafie. Per combattere la mafia bisogna essere cittadini esemplari e fedeli alla nostra Costituzione. A dirlo è stata Rosi Bindi, ex presidente della Commissione parlamentare antimafia, ospite ieri sera nella chiesa di San Bartolomeo nell'ambito di un incontro promosso da Libera. Purtroppo le mafie sono ovunque, quindi dobbiamo essere consapevoli che questo fenomeno esiste, conoscerlo e attrezzarci per combatterlo. Non pensando che per combatterlo ci vogliono solo gli eroi come Borsellino, Falcone, dalla chiesa che sono qui alle nostre spalle, nell'altare dei giusti. Servono cittadini per bene, persone che fanno il proprio dovere. La forza della mafia sta nel piegare il potere politico, finanziario, economico ai propri interessi. Non si oppone, crea relazioni e spesso si mimetizza e per questo è anche più pericolosa. Bindi dal 2013 al 2018 è stata presidente della Commissione antimafia, commissione che è stata istituita anche in questa legislatura e che tra i suoi compiti avrà anche quelli di occuparsi di nuove tematiche come il PNRR e accertare e valutare nuove forme di criminalità organizzata con particolare riguardo al settore del manifatturiero cinese. Esistono tante mafie, esiste la mafia cinese, esiste la mafia russa, nigeriana e le mafie sono ovunque, quindi noi dobbiamo individuare il metodo di comportamento delle mafie perché non hanno né colore né nazionalità ma hanno quel metodo lì e certamente si inseriscono in tutti i settori economici, in un paese come il nostro che è un paese prevalentemente manifatturiero, la nostra è un'economia manifatturiera, è chiaro che quello diventa un grande settore di attenzione e noi dobbiamo essere capaci di capire che appena c'è un sintomo bisogna intervenire e dobbiamo sempre pensare che la magistratura arriva dopo, i carabinieri arrivano dopo, noi dovremmo praticare la prevenzione e quindi farlo anche attraverso un'informazione, una circolazione delle informazioni anche attraverso i cittadini, attraverso altri imprenditori. Tante le persone presenti all'incontro, aperto da Don Marco Natali, parroco di San Bartolomeo e coordinatore provinciale di Libera Prato. Stiamo preparando alla giornata della memoria e dell'impegno contro le mafie, domenica è il 29esimo anniversario della morte di Don Beppe Diana, il suo grido vorremmo che diventasse nostro, per amore del mio popolo non tacerò, non vogliamo tacere come cittadini italiani, a maggior ragione non vogliamo tacere come cristiani, credo che l'epidemia di questo tempo sia l'indifferenza. Ecco, vorremmo superare questo stato di indifferenza e cominciare a sentire il problema della legalità, della giustizia, della tutela dei diritti, del restituire dignità a tutti i calpestati, una priorità quotidiana, nelle scuole, nella chiesa, nella società. Parliamo adesso di sanità perché ci sono nuove possibilità diagnostiche e di cura per i pazienti oncologici dell'ASL Toscana Centro, grazie all'arrivo all'ospedale di Prato della biopsia liquida. Vediamo di che cosa si tratta e quali vantaggi offre questa nuova tecnica. Una nuova metodica è stata adottata dal Dipartimento di Patologia Molecolare e Oncologica del Santo Stefano. Si tratta della biopsia liquida che consente di analizzare attraverso un semplice prelievo di sangue e non più attraverso biopsia o operazioni il DNA tumorale dei pazienti, che in questo caso viene rilasciato spontaneamente dalle cellule tumorali nel circolo sanguigno. Finora la biopsia liquida era presente in Toscana soltanto nelle aziende ospedaliere e universitarie e Prato si appoggiava a Pisa. Da cinque mesi la tecnica è utilizzata anche al Santo Stefano per il momento per i pazienti affetti da tumori ai polmoni, casi nei quali le biopsie tradizionali possono presentare maggiori rischi. La differenza sta nel substrato di partenza, cioè in alcuni casi i prelievi istologici e citologici che ci pervengono dopo interventi chirurgici o biopsie non hanno un quantitativo di cellularità neoplastica sufficiente per poter permetterci di analizzare il DNA e l'RNA e pertanto in questi casi, selezionati ovviamente, ricorriamo a dei prelievi ematici nei quali andiamo a ricercare il DNA circolante, cioè il DNA che viene emesso naturalmente da prelievi da processi metabolici all'interno del flusso sanguigno e questo lo andiamo ad analizzare per identificarne le alterazioni. Il servizio è organizzato in modo che il paziente possa eseguire il prelievo del sangue presso l'ambulatorio dell'oncologia che lo ha in cura senza doversi spostare al Santo Stefano. Le provette vengono poi inviate attraverso un servizio di trasporti interno all'ASL come già accade per il recupero del materiale citologico e distologico. L'impiego della biopsia liquida consente anche di monitorare la risposta terapeutica in gruppi selezionati di pazienti. La biopsia invece liquida è un semplice prelievo ematico che quindi può essere fatto a più riprese senza problemi di questo tipo per il paziente. Questo significa anche poter controllare nel tempo i benefici che può portare il farmaco che è stato adottato per quella patologia. Nel caso in cui e a volte succede che anzi spesso diciamo ci siano delle resistenze e queste vengono individuate in tempi anche abbastanza precoci e quindi possiamo spostare la terapia da un farmaco o a un altro. Un bando da 150 mila euro per sostenere la cultura anche nel territorio provinciale e Pratese è l'iniziativa messa in campo da Publiacqua per il 2023 dopo le esperienze positive degli scorsi anni. Sentiamo i dettagli per partecipare a questo bando. Al via al bando cultura 2023 di Publiacqua che sosterrà con 150 mila euro la produzione e realizzazione di eventi culturali a beneficio di soggetti che operano sul territorio dei 46 comuni dove l'azienda gestisce il servizio idrico. Per tutti i soggetti che rientreranno nei requisiti fissati è previsto un cofinanziamento che potrà arrivare fino a un massimo di 20 mila euro e coprire fino al 30% del costo complessivo del progetto. Il bando è rivolto a enti senza scopo di lucro che hanno sede nel territorio di Publiacqua. Le domande possono essere presentate entro il 15 aprile. Tutte le informazioni sul sito publiacqua.it. Abbiamo raccontato anche quello che abbiamo finanziato nei due anni appena trascorsi. 230 mila euro erogati, 33 progetti finanziati. A Prato ad esempio il Festival Pratese o altre iniziative presso l'Officina Giovani. Più in generale Publiacqua conferma inoltre il sostegno alla cultura e la partnership con soggetti come il Teatro del Maggio, Centro Pecci, Fondazione Palazzo Strozzi, Teatro Metastasio, Associazione Teatrale Pistoiese, ai quali complessivamente nel 2022 sono stati destinati sotto forma di art bonus 175 mila euro e che vedranno confermato l'impegno dell'azienda anche per questo 2023 con un'erogazione di 200 mila euro. Novità Pistoia Musei, di cui Publiacqua, sosterrà il progetto di corporate membership. È morto questa notte Giuseppe Campaioli. Aveva 85 anni ed era ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Prato per una polmonite. Campaioli era molto conosciuto a Prato, sia nel mondo del tessile che in quello ecclesiale. Per tanti anni, ai tempi del Vescovo Fiordelli, aveva tenuto i corsi in preparazione al matrimonio in Palazzo Vescovile assieme alla moglie Gisa. Era socio di un'azienda tessile e al distretto industriale pratese aveva dedicato un fortunato libro intitolato Prima che il vento se li porti via. I funerali di Giuseppe Campaioli saranno celebrati il lunedì prossimo alle ore 10 nella chiesa dell'Ascensione Alpino. La salma è esposta alle cappelle del commiato della misericordia di Prato. E adesso lo sport, calcio, il Prato alla ricerca della continuità per proseguire a cullare l'ambizione di arrivare ai playoff. Domani la squadra laniera affronterà il Corticella, i particolari nel servizio di Marco Manzo. Alla ricerca della continuità per proseguire a cullare l'ambizione di arrivare al playoff. Il Prato si avvicina alla sfida col Corticella, forte di una striscia positiva fatta di tre vittoria ed un pari nelle ultime quattro gare. Risultati che hanno permesso ai Biancazzurri di risalire posizioni in classifica. Un'ulteriore vittoria domani darebbe nuova l'infa al Prato, anche in virtù di una classifica molto corta che vede l'Aniere a soli 5 punti dal Carpi quinto in classifica. La rimonta è possibile, anche se domani mancheranno quattro pedine importanti come Mobili, o trovare cela tutti squalificati, ai quali si aggiunge l'infortunato Angeli. Assenze che riguardano tutti i reparti e che costringeranno il tecnico Branda ad avere poche scelte per l'undici iniziale, ma anche scasse soluzioni a partita in corso. Di fronte al Prato si troverà una squadra pazza nel senso buono del termine. Il Corticella è il secondo miglior attacco del campionato, ma anche la seconda peggior difesa. Non è insomma squadra da mezze misure, avendo raccolto solo quattro pareggi, o vince o perde. Quando gioca i gol sono assicurati, anche all'andata infatti, finì 4-2 per il Prato. E il telegiornale del giorno si conclude qui, restate con noi. Vi ricordiamo questo pomeriggio alle 17.30, in diretta dal Duomo di Prato, la recita del Rosario e a seguire la celebrazione della Santa Messa prefestiva. L'informazione di TV Prato torna poi stasera alle 20.30 con il Tg della Sera. Grazie dell'attenzione, buon pomeriggio. Grazie a tutti.